Graziano Gritter, tu hai quasi 86 anni, siamo qui a Trento a casa tua e sei probabilmente uno dei maestri di sci più anziani che ancora esercitano con grande passione la professione in Trentino. Quando hai cominciato a sciare, dove è iniziata la tua storia e com'è nata questa grande passione? Beh ho cominciato a sciare ancora da ragazzino, dai 10-15 anni quando abitavo in Cerdania e mi portavo fino in Vasona a piedi perché allora mesi non ce n'erano quindi ho cominciato lì la mia storia. Dopo un po' smesso mi sono sposato e... Tu sei nato a Trento? Sono nato a Trento, sì. E la tua era una famiglia di albergatori? Esatto, esatto, sì. Mi hai costruito ancora l'albergo Accademia, parliamo degli anni 900 e quindi andiamo dietro di parecchi anni. Ecco dopo ci siamo strasferiti in Cerdania, un ristorante Bella Vista e da lì ho cominciato un pochino a sciare per conto mio insomma con gli attrezzi vecchi da pionieri. Ecco dopo sono smesso un pochino perché mi sono sposato, avevo un lavoro, quindi poco tempo per allenarmi e lì ho conosciuto due miei amici, Treppi in primo e Silvano Wezer che lì mi hanno dato un po' l'entusiasmo di andare avanti e soprattutto di indossare la divisa da maestro, che è sempre un onore insomma, no? E è stato difficile prepararsi per la selezione, per l'esame da maestro? È stato difficile perché avevo poco tempo per allenarmi, quindi lavoravo fino a tutto il sabato e avevo la domenica qualche volta perché dovevo stare anche con la famiglia, no? E quindi mi sono arrangiato abbastanza, insomma dopo mi ricordo che qualche sera andavo a sciare in Bondone dall'amico Lino Nicolucci che aveva piantato uno schili sotto cara sua e lì si faceva qualche sciata di notte con i lampioni, no? Senti una volta quando eri più giovane, le prime esperienze, come si andava a sciare? Bisognava recarsi a piedi alla partenza del giusto? Ricordo che da Sardin si partiva a piedi, c'era una fila di gente qui sulla schiena, no? E si andava fino a Vison a piedi, c'era un pulma mi sembra che faceva servizio ma per pochi insomma Dopo messa in Duomo alle 5 si partiva e su fino a Vison, è una bella fatica insomma Qualcuno magari saliva in bicicletta? Però c'era anche il piacere di sciare, di arrivare su, stare in compagnia Ecco c'era l'albergo del famoso Tita che era l'unico invasione Da pionieri insomma dai all'inizio Qualcuno saliva con la Vespa o in bicicletta? Ma qualcuno dopo negli anni più avanti si vedeva qualche motociclista dietro e saliva Praticamente c'era fino in Vanese con la strada, no? Dopo da Vanese in su ci andava a piedi, non c'era macchine eccetera insomma Dopo hanno aperto la strada e allora lì ho cominciato a costruire E fino agli anni 50-60 gli impianti in Mondone com'erano? Gli impianti di risalita? Gli impianti di risalita mi ricordo che c'era Slittone sul Montesel E dopo, ecco la seggiovia del palon che si andava su, si si agganciava col cinturone Si saliva fino sul palon in cima, ecco, ce n'era altro Perché oggi sulla cima del palon si arriva con una seggiovia Adesso c'è una seggiovia, sì, il triposto, sì E una volta invece come funzionava? Ci si agganciava? Ci si agganciava, ti davano un cinturone, no? Ci si agganciava con una specie di martelletto, si chiudeva E se lì si apriva, restava lì, cioè bisogna tenerlo stretto E si arrivava fino al palon in quella maniera lì, insomma Erano anni dove c'era tanta neve? Erano anni dove c'era tanta neve, sì, sì, quegli anni sì Oggi siamo abituati spesso quando i maestri di sci o gli allenatori Trazzano il gigante, gli slalom a usare il trapano Vediamo sempre questo trapano sulle piste una volta Una volta, una volta I paletti da slalom, diciamo, erano di legno E si riusciva a piantarli proprio con forza Perché c'era tanta neve e non c'era il trapano Cioè è tutto un altro mondo, adesso ci sono i paletti snodabili Quindi... Si correvano anche dei rischi perché questi paletti di legno Eh beh, sì, sì, mi ricordo al corso a sesto pusteria Che uno proprio nelle prove di slalom nevicava, buche E' arrivato che si è buttato un paletto nella gamba qua Quindi sta un po' spavento, no? Perché anche il soccorso sulle piste non è mica come oggi Beh, soccorso sulle rive l'elicottero Una volta c'era, non so, l'acchia E si portava giù proprio con gli sci È cambiata molto anche in questi anni la tecnica tua Hai cominciato a sciare con gli sci di legno e gli scarponi di cuoio Con gli sci di legno lunghi 2,10 m Scarponi bassi di cuoio Quindi lì si rompevano tante le caviglie Adesso vanno le tibie o le ginocchia E ogni tanto sento anche raccontare che quando gli sci si rompevano per risparmiare E non doverli comprare nuovi, lì si rattoppavano Ah sì, 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 si portavano dal De Matè Beh, forse lei non si conosce De Matè era l'unico che... A Trento? Che aggiustava gli sci, sì, bravissimo Si aggiustava lo sci Si aggiustava, c'erano delle cere speciali Faceva dei tasselli praticamente sullo sci sotto, no? Tu adesso da anni, da tanti anni fai il maestro di sci a Lavarone Come sei passato dal Monte Bondone a Lavarone? Ecco, dal Monte Bondone a Lavarone Praticamente mi hanno chiesto i miei parenti Perché sono parenti di mia moglie Ma mi chiamano zio E sono quasi tutti maestri di sci, no? Da quanti anni sei a Lavarone? Dal 2001 Dal 2001 Se ben ricordo, sì Quindi sono 14 anni E prima insegnavi? In Bondone No, prima in Panarota Poi in Bondone e dopo in Lavarone Ci ho cambiato un po', insomma, dai E il posto di questi tre a cui sei più affezionato? Ma mi sono trovato bene Adesso mi trovo bene in Lavarone Con tutti gli maestri giovani Ecco, siamo su una quarantina Ecco, abbiamo un bel carusello Che parte da Lavarone, centro Da Bertoldi Ci arriva fino alle Vesene Qui sei preparato bene A Lavarone A Lavarone siete un bel gruppo di maestri di sci Tanti, quasi tutti Sono più giovani di te Qual è il rapporto che hai con le nuove generazioni di maestri? Io direi che mi trovo un buon rapporto Mi rispettano Io rispetto loro Si scherza Insomma, no, mi trovo bene Veramente Ti stimolano a continuare? Mi stimolano, esatto Esatto Quello è un bel stimolo, sì E dopo se posso dire Ho ideato una gara di fine stagione Con tutti quanti Tutta quanta la scuola No? Le varie categorie Così si passa anche una giornata di allegria Si si confronta Loro fra i giovani Noi fra i vecchi Ecco Così, insomma Quindi anche per loro Probabilmente Per qualcuno di loro sei un esempio Beh, sì Non so se sono un esempio Penso di sinistro Ma vai